Falconare di Leri, ci siamo in compagnia di Matteo Bellegoni, la fine della festa che avete organizzato qua per il Partito Comunista Italiano, il resoconto delle serate? Intanto buonasera a tutti, il resoconto qua a Falconare è sempre una piacevole conferma nel senso che anche questi quattro giorni sono stati eccezionali in termini di partecipazione in termini di presenza, la gratificazione è più grande e poi a parte la partecipazione anche la soddisfazione dei clienti. Noi cerchiamo storicamente di curare le nostre sagre anche dal punto di vista qualitativo, quindi cerchiamo sempre di garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo con dei cibi, delle pietanze, con dei fornitori ormai con cui abbiamo un rapporto di fiducia, magari spendiamo qualcosina in più però siamo sicuri di dare un certo tipo di servizio e quindi poi negli anni abbiamo dei clienti ormai affezionati. Una festa consolidata e a dimostrazione la serata era riuscita benissimo, moltissime le persone presenti. Come è andato il venerdì sera, ospite principale della serata, il segretario nazionale al Boresi? Il venerdì sera è andato molto bene, si sa che purtroppo la disaffezione alla politica si riscontra anche nelle feste, nelle sagre estive, però il dibattito è andato bene, abbiamo coinvolto una cinquantina di persone, Mauro è sempre preciso, puntuale nei suoi interventi, è sempre molto disponibile, è un compagno serio, preparato, quindi è sempre un piacere averlo tra noi. Peccato per la festa che purtroppo sabato abbiamo dovuto tenere chiuso, era doveroso tenere chiuso visto il lutto nazionale. Stiamo parlando dei fatti di Genova naturalmente. Stiamo parlando dei fatti di Genova, noi avevamo già visto che la nostra festa è iniziata al 15, purtroppo la disgrazia di Genova è accaduta al 14, quindi noi avevamo già pensato di annullare la musica, infatti in tutte le quattro serate non c'è stata musica e i dibattiti abbiamo confermato solo quello di Mauro, ma il resto sono stati annullati, soprattutto quelli previsti il 18 e anche quello che era previsto questa sera. Il 18 abbiamo tenuto chiuso, visto il lutto nazionale, è dispiaciuto un po' constatare il fatto che noi fossimo chiusi, mentre in tutta l'edici i bar, i ristoranti, a cominciare dal bar proprio qui del parco di Falconara era aperto, quindi per noi è un danno economico piuttosto importante, però insomma era doveroso chiudere, ci sarebbe fatto il piacere che l'avessero fatto tutti e non solo noi, questo ci fa rimanere un po' così, poi per il resto è stata comunque una festa molto diversa da quella degli anni scorsi, perché è chiaro che con quello che è accaduto il 14, il clima che si respirava anche tra di noi era molto diverso, tra l'altro ci sono stati compagni a Genova del nostro partito che hanno visto coinvolti dei conoscenti, addirittura dei familiari, quindi è chiaro che il cuore e la mente era vicino a loro e a tutta Genova, io poi come segretario regionale ho un modo di frequentare Genova negli ultimi mesi, negli ultimi due anni molto più spesso e quindi il legame a quei compagni a quel territorio è importante. Una parola obbligatoria sui fatti di Genova, una sua lettura, una lettura difficile al momento ovviamente, però... Ma è una lettura difficile, io come ho già avuto modo di scrivere penso che quella di Genova sia stata una tragedia annunciata, già negli anni erano state segnalate più volte le criticità di quel ponte che sono state trascurate e qui va fatto un discorso molto ampio anche sulla gestione delle autostrade e quindi sulle privatizzazioni che spesso e volentieri guardano più al profitto che alla salvaguardia della vita delle persone. Su questo il discorso sarebbe come ripeto molto lungo. In effetti al momento è lungo, è difficile. Sì, poi ho visto che anche sul discorso della concessione o meno, cioè il togliere la concessione o meno della gestione dell'autostrada Italia da parte del governo ci sono comunque dei batti continui, percepisco la solita ambiguità di questo governo dove nella privatizzazione che c'è stata negli anni passati sia del centro-destra che del centro-sinistra e nessuno è da tirare fuori. C'è stata questa privatizzazione cieca dove appunto si è ragionato più sulla logica del profitto che su quella delle vite umane. Su questo c'è assolutamente da cambiare registro. Mi pare che i 5 Stelle su questo, sulla nazionalizzazione, avessero un giudizio che mi pareva positivo. Su questo c'è stata una grande frenata. È sicuramente un percorso lungo e difficile, ma io credo che rimanga l'unico percorribile per tutelare le infrastrutture nel nostro paese e quindi di conseguenza le vite degli italiani.